Sfidiamo il vento e quasi la pioggia ma siamo qui sul campo Frabotto Mannis del Monte Paone perché vogliamo conoscere meglio mister Alessandro Pisano e per cominciare questa conoscenza partiamo dalla mattonella di mister Pisano quando giocava, da qui se poi il signor Siciliano inquadra la porta lui vedeva la porta e metteva la palla dentro. Pisano giocatore che chiamavamo Giotto quando facevamo le telecronache, qualche ricordo del periodo che poi non è tanto lontano perché parliamo di un mister giovanissimo. Ricordi bellissimi nel senso che comunque fare il calciatore è completamente diverso da fare l'allenatore, invidio i ragazzi che giocano infatti glielo dico sempre e mi cambierei molto volentieri non solo per una questione di età ma perché comunque si vive il calcio in modo più spensierato come giusto che sia da quando invece ho smesso che sono tre anni praticamente la condizione mentale cambia completamente io ripeto sempre ai ragazzi che fare il calciatore lo fai due ore al giorno l'allenatore credo che lo si faccia 15-16 ore al giorno almeno per quanto riguarda la testa E per le punizioni non dicevamo male, era più o meno questa la mattonella alla quale facciamo riferimento? Orientativamente sì dai, fortunatamente sono stato fortunato nel senso che spesso mi è andata bene quindi comunque era una cosa che amavo fare perché comunque era un piacere per me vedere la palla entrare in porta e mi allenavo molto per questo perché comunque era una condizione del calcio che mi piace molto il calcio di punizione Si dice o almeno si dice oggi che solo chi ha fatto il calciatore può fare l'allenatore forse perché dal campo si capiscono tante cose che poi in panchina uno può applicare o mettere in pratica Non sono completamente d'accordo nel senso che non sono d'accordo sul fatto che solo chi abbia giocato possa allenare, secondo me non è così però sicuramente aver giocato ti aiuta a capire tante cose che chi non ha avuto l'opportunità di farlo sicuramente deve imparare con il tempo però anche chi non ha giocato a calcio, non ha avuto la fortuna di giocare a calcio secondo me può tranquillamente seguire una passione che può essere quella di studiare di aggiornarsi e di allenare una squadra di calcio Anche perché poi è arrivato sulla panchina, mister Pisano ha portato un'idea secondo me di professionismo anche nel calcio dilettantistico perché lei ha uno staff, fa appunto uno studio approfondito anche a computer di tutte quelle che sono le metodiche da applicare questo significa essere avanti, un Pisano 3.0? Assolutamente, io faccio il possibile per cercare di migliorare la condizione della mia squadra poi ognuno può vedere il calcio a proprio piacimento c'è chi pensa che magari in queste categorie si debba fare, siccome è dilettantismo, si debba fare dilettantismo e basta io non è che faccio professionismo, io cerco di trovare ogni particolare per portare dei vantaggi alla mia squadra e per farlo ho scelto e ho dei collaboratori che secondo me sono bravissimi e di cui io non posso fare a meno perché sono fondamentali per me Parliamo ora un po' delle panchine di mister Pisano io statisticamente non sono sempre preciso però sono vaderato a Montepaone, Staletti e poi? E poi chi lo sa, io ho iniziato solo da poco, sto imparando, cerco di imparare ogni anno, ogni partito, ogni allenamento è una cosa che bisogna fare insieme, io devo imparare ad allenare, i ragazzi devono imparare a giocare le società devono imparare a gestire le squadre, diciamo che è una crescita generale io non guardo avanti, non sto guardando il futuro, non devo fare un percorso chissà per fare chissà che cosa io però credo molto nel lavoro che facciamo e voglio portarlo ad essere il più competitivo possibile poi il tempo soltanto ci dirà che cosa si potrà fare in futuro E mi sembra che a livello di tattica qui a Montepaone si porti avanti un discorso che coinvolge non solo la prima squadra ma un po' tutta la scuola calcio che a Montepaone per rimanere in tema con Pisano è un vero gioiellino la scuola calcio Io sono contentissimo del lavoro che si sta facendo tutti insieme la società mi ha chiesto di svolgere un lavoro per dirigere anche i tecnici del settore giovanile io sono entusiasta di questo perché è un lavoro che portiamo avanti da due anni tutte le categorie ci stanno dando delle grossissime soddisfazioni speriamo di continuare così, si gioca con la stessa idea di calcio in tutte le categorie ovviamente parlo dei campionati a 11 si fanno delle esercitazioni comuni in tutte le categorie si sta cercando di creare un unico pensiero di lavoro e credo che sia, questa è un'idea che la società ha avuto di volermi affidare questo compito che per quanto difficile possa essere a me soddisfa pienamente quindi anche se sicuramente è una cosa molto impegnativa ma io sono contentissimo di quello che si sta facendo anche perché vedo la crescita e l'entusiasmo dell'ambiente anche nelle partite domenicali che poi la prima squadra è il punto finale di un lavoro che parte da molto più indietro quindi si cerca veramente una collaborazione totale con tutti i tecnici e con tutti i collaboratori che onestamente non potevo essere più fortunato perché ci sono veramente dei ragazzi in gamba quindi il mio lavoro diventa facile proprio per questo motivo in alcune situazioni perché sono circondato da collaboratori di altissimo livello E allora, mister Pisano ora chiamo io uno schema al signor Siciliano ci muoviamo perché camminiamo e andando verso la panchina noi vogliamo sapere e anche i nostri tre spettatori un po' il mister Pisano nella vita privata fuori dal campo come mister Pisano? Pensa sempre al calcio? No, no, assolutamente ci vuole giustamente tutto c'è una frase non ricordo chi l'ha detta che secondo me è molto vera chi sa solo di calcio non sa niente di calcio quindi a me piace il calcio è la mia più grande passione ma non esiste solo quello ho la mia attività commerciale ho la mia vita privata ma penso soprattutto a una certa come dire si deve fare tutto quindi si devono riuscire a trovare gli spazi per ogni cosa E i calciatori sono sempre tatuati? Gli allenatori? Gli allenatori no a me non piacciono particolarmente i tatuaggi quindi ne ho uno per ricordare un momento difficile della mia vita e poi per il resto non li amo quindi non ne ho fatti Il Montepaone oltre che la squadra di calcio è anche una grande famiglia e ogni domenica si ricorda Gregorio Vatrella e lo ricordiamo con affetto perché andiamo verso la panchina è un ragazzo che ci ha segnato tutti cioè lo ricordiamo con piacere pur nel dispiacere della sua partenza verso il paradiso Sì assolutamente questa è una cosa che ha segnato tutti io ho difficoltà anche molte volte a parlarne perché comunque è una situazione che nessuno credo possa preventivare di vivere perché quando ci si riunisce in un gruppo come quello di una squadra di calcio non si pensa mai di poter perdere un compagno di viaggio quindi si pensa sempre nelle cose belle nelle cose che ci fanno divertire ci fanno essere spensierati purtroppo quando ci si ritrova di fronte a delle tragedie del genere tutto sembra fermarsi ed è giusto che sia così tutto di colpo ti appare nero e noi in tutto questo abbiamo ci siamo stretti attorno l'uno con l'altro abbiamo passato dei momenti difficilissimi insieme ma la cosa che ricordo con piacere e affetto è che Gregorio è riuscito in una cosa credo unica è riuscito ad unire tutti perché non conosco nessuno che possa dire una sola parola di sbagliato nei suoi confronti e torniamo al calcio ci siamo seduti in panchina quanto è diverso vedere e fare una partita dalla panchina rispetto alla tribuna perché io qua già ci capisco molto di meno io sono abituato a vedere la tribuna e il campo mi pare diverso Domenica mi è capitato di doverla vedere 5 minuti alla tribuna perché comunque sono stato allontanato e quindi sono salito in tribuna la visuale è sicuramente migliore da sopra dal campo però puoi avere il contatto con i ragazzi dare un consiglio che magari sul momento chi è dentro il campo può non avere le idee chiare su alcune cose quindi noi soprattutto credo che un allenatore incida sulle gare fino alla rifinitura dopo in partita è il calciatore che fa la differenza quindi in ogni caso più di un consiglio non si può dare più di un incitamento non si può fare però io più vicino sto ai ragazzi meglio mi sento e noi abbiamo chiesto proprio Domenica un altro collega che era qui a fare il bordo campo che sapore ha, che odore ha l'erba del Frabottomanis ma io più in generale direi l'erba del campo di calcio quella vera come qui a Montepaone beh è un sapore allora innanzitutto devo dire che quest'anno è stato fatto un lavoro importante su questo campo nel senso che rispetto agli anni passati è arrivato in questo periodo ad essere quanto meno giocabile e credo che questo lo si debba soprattutto all'impegno di Gregorio Paone e del dottore Carpino che hanno fatto il lavoro su questo campo splendido perché anche se chi viene non lo può notare perché sicuramente ha delle criticità però è stato fatto il lavoro che ha permesso a noi di poter giocare nonostante ci siano 4-5 categorie che ci giocano sopra ed è un profumo che per me è un profumo particolare perché è l'unico campo che ho nel cuore quindi è sempre questo il mio Noi non abbiamo la pretesa in pochi minuti di conoscere una persona però siccome potremmo dire di Mr. Pisano competente, umano e simpatico vogliamo concludere con uno spaccato sulla simpatia di Mr. Pisano c'è qualche volta in cui con gli amici magari al bar Mr. Pisano diceva Barzelletta fa una battuta la possiamo rubare? Ma guarda chi mi conosce sa che nel privato diciamo con gli amici spesso mi piace passare del tempo e ridere e scherzare con battute e scherzi ma sicuramente non la farei a comando quindi non sono bravo in queste cose E comunque quindi noi ci complimentiamo con un uomo che è appunto prima uomo e poi grande allenatore e possiamo dircelo ora ce la farà questo Montepaone? Ma è la speranza di tutti perché questi ragazzi sono stati così bravi da farci assaporare queste sensazioni queste posizioni di classifica e quindi credo che la speranza di tutti adesso come dicevo proprio a lei domenica nell'intervista deve essere quella di cambiare di alzare l'asticella e di lottare per il primo posto perché è giusto che sia così i ragazzi e l'ambiente merita tutto questo perché non vorrei dimenticare che noi abbiamo un pubblico che secondo me con la prima categoria non c'entra nulla perché ci sono dei ragazzi che si sentono e si sono trasportati da un entusiasmo quando la squadra va bene e anche quando la squadra va meno bene e quindi vuol dire che si respira calcio a Montepaone in tutti gli angoli quindi io mi sono cresciuto in questo ambiente quindi so perfettamente che cosa vuol dire per questi ragazzi che una volta vedevano i padri venire qui al campo adesso vengono loro e tifano e incitano questa squadra grazie a mister Pisano un ultimo desiderio del cronista vediamo se riusciamo ad appagarlo avrei tanta voglia di entrare in campo mister Pisano mi può dire De Filippis scaldati assolutamente inizia a riscaldarti Giorgio che ci sarà posto anche per te grazie mister ci sono grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri